Grazie Presidente. A ribadire la nostra volontà di votare positivamente questa mozione, annuncio che l'ho anche sottoscritta e vorrei dire che per noi Roma è una città inclusiva, deve essere una città aperta, una città che guarda i diritti di tutti e sarebbe un enorme onore per Roma ospitare questa manifestazione del Pride a livello mondiale nel 2025. Roma non è Verona. Grazie. Grazie.